no 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 ah papo ho trovato quella cosa quale cosa del psn euro non ho capito sta cosa del psn euro ma i più spesso store per detto che è di merda su oscaris che cazzo andiamo il canale del marino che cazzo vede non vedo un cazzo quello 2 in particolare ma io l'ho ringraziato l'audita ti hai chiamato stronzo ti sei arrabbiato e te ne sei dato ma va ma vaffanculo va quel chiatone di merda ma con me dove siamo scesi ma meno male quel decendere lunghi meno male non cazzo sembra meno decendere pensiamo che siamo in trio te ne va te ne va ho un martello e ho paura di usarlo boom ho un pisello e non ho paura di usarlo ehi sento che ci sta qualcuno eccolo ma dove va vabbè lasciamolo qua giù c'è la bomba di carmine zia esploso uno uno sta afforando a qualcuno esploso un altro ma chi cazzo spara questo ah uno sta scappando ah uno sta scappando un cazzo è ma sparato non lo so zia morto uno e quell'altro ha scappato lasciamo a scappare niente ma io ho ammazzato il compadre il martello che ricordi ci piace eh eh ero bellissimo zia tu sei sempre bellissimo allora c'ho oh chi è? chi è? chi è? chi è? ok io ho tolto sei da lontano come sei? eh io ho tolto sei con la miraglietta che gay 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 venga io ho sei spruzzo vince 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 come sei fidanzato zia ma che cazzo fai? d yapılan altri le porto io questo te l'ho tolto e questo le porto io adesso ma che vuole sto gli attori il problema è la mia scelta di non fidanzarmi è quello il fatto eh questo è uno strumento fa chi non ne sa qualcosa ogni settimana ne compare una a caso spawnano, spawnano ragazzi che sta portando i cazzo di vedi stronzi farla sparacca vicino e farli sparare tu devi un po' che scopo lanciarazzi un'altra volta basta si lanciarazzi che sta portando che sta portando questa qui è tappa perché non l'ho ucciso io non lo so però è uno però è un altro c'è restano altri due vento però sei pratico arrivo 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 per chi volesse portate quel cazzo di lancia razza e io vedo i colpi che non sei filippo sono filippo sono è uno atterrato uno lo compiato è un altro lo scopato questo adesso regalo volete il bomba viola il nostro lo scopo il coglione quello pesante normale ora arrivo devo perlustare la situazione bastardo dove sei eccolo è morto si no non mi piace possiamo anche incastrarlo perché hanno messo tutte queste armi sto gioco di merda ho lasciato l'assalto su lava oh grave grazie grazie arrivo il pago ne ha ammazzato uno che cos'è che è pingato pago grazie bravo uno sta arrivando zia sta arrivando ecco qua fa bagdad eccomi bagdad aia mi sono fatto male dov'è zia dove c'è un altro e regalo c'ha fatto tutto lui allora io vorrei cambiare assalto ma io io ho serrati tutte e due cioè non non ho mottito ho visto mio oh porca madonna mi è piombiato proprio in testa questo pozza da 50 si sta un'altra qua ce la schiaffiamo al culo non mi serve ragazzi tu stai lontano si porca madonna pari davanti lo so io ci sto andando dove incontro che mi piace il brrrr rivido siete voi con la zipline eeeh il bot che mai non capisco il bot sta seguendo voi e non me che sono il suo proprietario ma vieni qua che ti devo violentare bot di merda riusciamo a trovare i due bot così facciamo l'esercito dei mongoloidi qua c'è questo a me mongoloidi guarda che cazzo stanno davanti io vedo no il bot il bot no non lo vedo no 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 eh l'avevo visto da un'altra parte per questo morto ok morto ammazza ne sono figo de troia porca madonna c'hai 77 kill morto 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 tag tag da dove Non lo so zia Però andiamo Non mi piace la situazione Pago un ping per favore Uno Però non andare a fuoco C'è abbiamo uno a fianco Grado uno Ma che cazzo hai morto Porca madonna Morto C'è gente Ma perché proprio a me Magari Qualcuno mi resti per favore 13 11 6 0 Zia Sto qua 5 3 Zia No No Sei un mongoloide Grazie ciccio C'è ciccio C'è Madonna C'è C'è Il botto Il cristiano vicino Che vi faccio Il sole di colpisellino Pago guarda Cazzo se ne è nato Ma hai visto Non ho vita Non ho vita Guarda me la Per questo Che non giochiamo più Pago Guarda No Carotte Sì 9 kill Porco Dio Il problema è che 4 kill Pago forza Ma tiro Sì Forse Ma sarebbe inutile Restarmi Quanti team sono? 8 Parca madonna D'accordo Attento Pago ce l'hai davanti Ah no Il botto Ok Ma questo qui scendeva In modo strano Una bella cecchinata Sarebbe un vero peccato Cioè io V'ho carriato Questa La pazzita E' morto Buonasera a tutti No l'unico che è morto Vabbè Porco Dio Riuscire a ammazzarlo Quello che cazzo Oh no Paco Sento che stanno arrivando Paco Gol Ma vai a lutare Cosa c'è da fare qua? Vai a lutare Non c'è un cazzo Già hanno lutato Tutto lo loot Tutto lo loot Vai di qua Vai di qua Voglio i colpi Guarda quanto c'è stanno I colpi Zero Guarda che disabili Guarda che stricchio Ci sono anch'io Ciao Ciao Uomo focaccino Paco porca madonna Dio C' allein Edgro Siamo Questa tuo padre questo caccia la scienza contro di me io non ho parole basta ma madre quella troia me la schiaffa il culo la carne poca cambio cambio ok capito comunque è un'altra su dating ma risposto dating quello del facebook c'è i raggi per caso due contro due vedete vinciti ma poi metto le mani in faccia per mito che può carriato violentami per favore quella samanta che bel nome da puttana violenta amiciciccio stanno restando stanno restando non è che cazzo me ne frega lo vedo uno è saltato c'è il coglione senza corona la partita prossima c'è il coglione senza corona che è guarda 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 c'è il coglione ho ottenuto una corona pure io gogo sei un bastardo che cazzo ha fatto il coglione per due magari muori guarda 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 guard